che nome da dove era questo nome così a caso in famiglia eh sì mia nonna ha detto è stato un fato che tu sei arrivato qui ah va bene non l'ho mai sentito veramente ma comunque ce la prendo una persona certo e ce la prendo una persona fatto non fatta bravo hai capito quello che conta è la persona non è il nome ah io vero no veramente è vero che sia in Napoli ma che state facendo ma niente mi stava parlando un attimino va bene continuate la conversazione ci vediamo dopo ok va buone ciao 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 buone ma dobbia dire madre figlio spirito santo dai però puoi fare queste cose che ero morta a terra dai no